Taylor Swift ha fatto un errore gravissimo Nel 2012 il team di Taylor Swift decise di fare un contest dove gli utenti avrebbero votato una scuola americana nella quale Taylor Swift sarebbe dovuta andare a cantare Ma internet decise di trollarla Gli utenti di 4chan si riunirono per pensare ad un'idea e dopo numerose proposte una scuola fece bingo La Horus Men School Per sordi I voti per la scuola salirono alle stelle e presto la competizione si concluse con una vittoria schiacciante di oltre 50.000 voti Circa 25 volte in più della seconda classificata Taylor Swift sarebbe dovuta andare a cantare in quella scuola ma purtroppo accadde una cosa terribile Video completo su YouTube